Sono Lydia Poet. Sono un avvocato. Non pensavo che le donne potessero fare certi lavori. Se Dio ti voleva avvocato, non ti faceva donna. Giusto. Signore, ordine! Posso vincere. Non vincerai mai. Non essere pessimista, cazzo! Come dice, signorina? Niente. Ops. Ognuno di noi lascia delle tracce. Che fanno? Si chiamano impronte digitali. Impronte digitali. Digitali, esatto. E assurbità. La chiami Susie? Lydia. La sorella pazza. Cosa cerchiamo? Non ne ho idea. Il mondo non è ancora pronto per quello che sta facendo. Possiamo perdere, ma almeno proviamo a combattere. Senti, orti! Cosa cerchiamo? Grazie per la visione!